I tre errori più frequenti sulle alzate laterali. Primo errore, piegare troppo i gomiti. I gomiti vanno solo leggermente piegati. Secondo errore, intraruotare l'omero. L'omero non va intraruotato, quindi i palmi delle mani devono guardare sempre verso il pavimento. Terzo errore, salire con i gomiti in linea con le spalle. I gomiti devono essere leggermente più avanti, quindi la traiettoria di salita deve essere leggermente avanzata. Grazie.